Generale Camporini, siamo qui al Gate 21, manifestazione dall'Ultragera al Satellite. Per quanto riguarda la nostra aeronautica, questo è stato un anno importante perché abbiamo avuto due nostri militari scelti come nuovi astronauti per l'Agenzia Spaziale Europea. Cosa significa questo per la nostra Forza Aerea e per i programmi in senso aerospaziale in questo prossimo futuro? Io credo che significhi innanzitutto che i concetti che abbiamo implementato nella formazione del nostro personale sono assolutamente d'avanguardia. Due astronauti su sei europei formati dall'Aeronautica Militare credo che significhino soltanto che siamo l'eccellenza in Europa. Una domanda invece dal punto di vista più strettamente militare, dopo decenni di predominio della Stati Uniti e della Russia per quanto riguarda gli aerei caccia, abbiamo da qualche anno l'Europa in prima linea con ben tre prodotti di primo livello, chiaramente quello a cui noi siamo più affezionati, l'Eurofighter, il Gripen e il Rafale francese. Chi è in vantaggio in questa corsa e come prevede che sia lo scenario futuro da questo punto di vista? Io non voglio fare comparazioni, voglio semplicemente dire che con l'ingresso in servizio dell'Eurofighter noi oggi abbiamo un sistema di difesa aerea di assoluta prima qualità. Ci è voluto tempo, più tempo del dovuto se vogliamo, ci è voluto uno grosso sforzo. Non voglio fare paragoni, al momento credo che Eurofighter sia il velivolo della sua classe assolutamente migliore in circolazione. Un'ultima domanda più generale, questi ultimi anni sono stati molto impegnativi per quanto riguarda l'intero sistema della nostra difesa e quali sono le sfide che aspettano le nostre forze armate in questo 2010 appena iniziato? Le sfide sono quello di continuare ad operare con la stessa efficienza che abbiamo dimostrato fino adesso trasformandoci e razionalizzando ulteriormente il nostro sistema in modo tale da far sì che le risorse che ci vengono conferite dal Parlamento e dal Governo siano sufficienti per poter dare il risultato che il Paese si attende. Grazie.